La stabilità e la sicurezza della mia famiglia, il benessere e la salute dei miei cari, sono valori senza tempo che mi sono stati trasmessi e che voglio tramandare alle generazioni future. E' su queste fondamenta che desidero costruire la nostra nuova casa. Il suono di una risata conosciuta, il profumo di un luminoso sabato mattina, il sapore di una tazza del mio tè preferito. E' il luogo dove inizio e concludo ogni mia giornata, dove mi riposo, dove mi sento amata e al sicuro. Ma soprattutto, la casa è quando posso condividere queste sensazioni con i miei cari. Giocare Sentirsi come il capitano di una nave Far volare i miei sogni nel cielo Questa è la mia casa Il posto in cui mi sento meglio Specialmente quando con me ci sono mamma e papà Nel tempo, tante cose possono cambiare Ma i veri valori restano Per questo, la casa non è solo un insieme di muri e di mobili che ci circondano Ma una sensazione Che fa rivivere il passato E rassicura il futuro Grazie a tutti